Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Near and Far, un gioco di Ryan Laucat, edizione italiana, quindi localizzato nella nostra lingua e portato in Italia dalla DV Giochi, che io ringrazio di cuore per averci offerto una copia per la recensione, grazie che ormai è un anno che collaboriamo, grazie immensamente. Near and Far è il seguito diretto di un altro gioco, insomma, che è stato anche abbastanza famoso nello stesso genere, quindi vedetela come un'evoluzione diretta di un gioco di avventura, che è Above and Below. E infatti tutti i personaggi che vedete, che troverete in questo gioco, avranno due facce dove in una faccia saranno utilizzabili per Near and Far, nell'altro lato invece, il lato posteriore, potete usare gli avventurieri direttamente anche in Above and Below. Ed è un gioco di età da 12, far ridere e leggere, da 12 a 99, come nei vecchi giochi tipo HeroQuest, a 99 anni, no? Già ad arrivare, ci tocchiamo ferro, sarebbe buono. Comunque, dai 12 anni in su, da 2 a 4 giocatori, quindi questo in solitario non lo potete giocare, anche giocandolo in 2 ha delle regole particolari, di una durata massima di 90 minuti, sì, quello come tempo ci può stare, poi dipende sempre dal gruppo, perché è un gioco molto narrativo. E la cosa interessante è che la storia del gioco ci vede come degli avventurieri, che dovranno farsi una squadra e dovranno prendere anche animali da soma, oggetti, reliquie, tesori e quant'altro, alla ricerca di una città dispersa. Quindi lo vedo in un gioco molto avventuroso, nello stile anche Indiana Jones e cose del genere, in un mondo ovviamente fantasy, non è il nostro, un mondo di fantasia, creato appunto dall'autore del gioco, ed è molto interessante perché il gioco da tavolo è collegato, a parte una parte narrativa disumana, ed è collegato a un libro delle avventure che è proprio nel vero e proprio stile di un libro game, dove ci dirà magari dalla mappa vai a questo capitolo, se hai superato la missione prosegui vai a questo, oppure a volte delle quest ci potrebbero dire anche di proseguire un altro sotto capitolo del manualetto delle avventure, comunque con delle side quest, sotto quest o cose del genere. Quindi è veramente interessante, è un gioco ricco e zeppo di avventure, non è la cosa principale, perché dovete guadagnare punti, diventare l'esploratore più famoso e più rinomato, alla fine di una corse punti, dovete nella modalità campagna trovare questa città dispersa, però quel che conta per vincere la singola partita è anche guadagnare più punti degli altri giocatori, e le potete guadagnare in tanti modi, combattendo, trovando tesori, accumulandone, ma anche e soprattutto superando le quest che vi verranno poste, in un gioco che è veramente fresco e velocissimo. Vi faccio vedere un po' come funziona. Unboxing, la scatola abbastanza grande, colorata bene, è bello anche il disegno, insomma, abbastanza, sembra un paesaggio in foschia, una cosa del genere bello con un ponte e un avventuriero che l'attraversa. Vedete tutte quante le indicazioni, gioco, edizione italiana della DV Giochi, e come dimensione, insomma, è abbastanza grande, più che altro è pesante, è piombata. Quando la tiri su, non è nemmeno grossissima la scatola, però è veramente ricca di contenuti, e uno dice, boh, cosa ci hanno messo? È il piombo. Apriamo. Manuale del gioco, io penso veramente, non è cercare sempre di dirlo, però ho avuto la fortuna di tutti i giochi trattati finora, a parte due o tre che erano particolarmente complicati, di trovare sempre dei regolamenti semplici e ben illustrati, e ancora una volta è veramente semplicissimo, e illustrato veramente da paura. Ogni volta, vedi tutte quante le componenti, ogni volta vi sarà sempre fatto presente un esempio e una figura che, con tutte quante le frecce perlomeno, vi fa capire meglio che cosa dovete fare. Piolini di legno, che in questo gioco servono per tenere conto dei punti ferita del vostro personaggio, che ha anche punti fama, come poi vi farò vedere. Un sacco di bustine, per conservare tutti quanti i token e i pezzi del gioco. Sacchettino dove mettere dentro i personaggi da pescare. Io presumo che queste qui siano delle gemmine in 3D, riprodotto perché ci sono anche i token normali, queste devono essere quelle riprodotte in 3D, poi nel caso se avessi sbagliato ci metterò una nota a video. Stendi di plastica, dove mettere sopra i vostri avventurieri. Dali da 6, che servono per fare tutte le prove del gioco, combattimenti, prove di abilità e cose del genere. E tende, divisa in 4 colori, celeste, rosso, giallo e verde, che servono per segnare i vostri spostamenti sia in città, nel gioco, che vi fanno fare appunto azioni particolari o azioni di accampamento, che anche e soprattutto nella mappa di gioco. Questo qui è il libro delle mappe del gioco, che non ve le vado a spoilerare anche nel video, vi farò vedere soltanto alla prima. Comunque è il tabellone di gioco dove vi potrete muovere. uno sbotto di token, che ad esempio, facendoli vedere qui, sono gli avventurieri che potete assoldare. Gli standardi delle varie fazioni. I vostri personaggi, ovviamente. Le gemme, che queste qui sono quelle, penso, in 2D. I soldi. Libri missione, che quando le trovate sulla mappa vuol dire che in quella zona potete fare una missione e quant'altro. Una miriade di carte, che sono carte, queste qui per una modalità in particolare, che non vi farò vedere oggi. Comunque ci sono carte reliquia, comune e rara. Carte incontro, per quando dovete fare gli incontri contro i briganti che troverete lungo la strada e quant'altro. Blocchettino con delle schede dove dovete segnare dietro, faccio vedere di qua, i talenti e anche le parole chiave che troverete durante l'avventura, perché come in un buon libro game il gioco vi potrebbe dire segnate la parola chiave, che ne so, tesoro, oppure teschio dorato, una cosa del genere. Perché magari più avanti nella storia vi potrebbe servire le segnate qui, e qui davanti avete la possibilità di segnare tutti quanti i punti esperienza. Di solito ogni tot punti esperienza, ogni tre, dovete annerire una casella per poi passare di livello. Plancia dei giocatori, dove in fondo dovete mettere tutte quante le tende, e avete i vari slot che tanto ora vi vado a descrivere, punti ferita, ad esempio, zaino, dove portare tutta quanta la roba. Plancia città, perché in questo gioco le azioni si possono fare o in città, ovviamente esplorando nella mappa, e questa è la plancia della città, e libro delle avventure, che vi faccio vedere una pagina a caso, ma non ve lo mostrerò nel corso del video, perché questa è la parte narrativa ed è la parte più bella del gioco, ragazzi. Quindi non ve la spoilerate, giocatela, non la guardate assolutamente, non ve lo mostrerò. Vi faccio vedere un po' come gira un turno. Quella che vedete qui davanti è la plancia di ciascun giocatore. Noi vi facciamo vedere un setup per una partita a quattro giocatori. Ovviamente vi farò vedere soltanto i movimenti e le azioni di un personaggio. Comunque, abbiamo, all'inizio, ciascuno deve prendere un famiglio di partenza che può essere un cane o un gatto. Io e mia moglie siamo gattari, si è preso il gatto. Poi, un cursore sui punti ferita sul livello zero. Vedete, qui ci sono i colori degli standardi per gli avventurieri che potete assoldare. Comunque, beh, nel caso del famiglio non ha uno standard, una fazione, mettetelo dove vi pare. Un libro che ci ricorda le azioni che possiamo fare, ovvero i movimenti dalla città, oppure possiamo fare, spendere un cuore per muoverci di una zona, tanto ve lo faccio vedere dopo, spendere tre cuori per accamparci. Inizialmente si parte tutti in città, i nostri cuori sono zero. Tre monete di partenza, quattordici tende per ciascun giocatore, questi tre slot sono per gli uccelli da soma che si potranno comprare in città, che sono praticamente questi qui, e questi gli slot tesoro, dove potete andare a mettere le carte tesoro che pescherete. Però, per poter portare una carta tesoro dovete averci un uccello da soma, se no non la potete trasportare. E questa è la plancetta del personaggio. Qua giù sopra invece c'è il mazzo generale per tutti, non l'abbiamo mescolato, degli artefatti rari e degli artefatti comuni. All'inizio della partita ciascun giocatore ne pesca tre comuni, come vi faccio vedere ora, e due rari. E praticamente senza farli vedere, perché le deve vedere soltanto lui, se li guarda tutti quanti e se li mette vicino alla sua plancia. Quello che vedete è sempre un setup a quattro player. Noi nel caso abbiamo scelto questo avventuriero qui. Ora, questa è la mappa della città, perché il gioco si divide in due fasi. Potete fare azioni in città o azioni nella mappa, quindi andare all'esplorazione. Dalla mappa dell'esplorazione potete tornare in città da un qualsiasi punto, vogliate, qualsiasi, anche se vi trovate qua giù potete addirittura andare con un viaggio subito in città, però quando uscirete dalla città e dovrete tornare a muovervi sulla mappa di gioco, ovviamente vi rimuoverete dalla città principale, che è questa qui. Come potete vedere c'è il simbolino del cuore. Quindi ripartirete sempre da qua giù. Le azioni che si possono fare in città sono elencate. Comunque, qua su in cima c'è lo shop, il negozio, degli avventurieri che potete acquistare. Ne abbiamo messo uno per ogni fazione. Vabbè, le fazioni sono quattro, uno ovviamente è doppio. E come vi dicevo, se lo girate dalla parte di qua ci sono le regole per giocarlo su Above and Below. Comunque, visto che siamo su Nirenfar devono essere girate da questa parte. Il token del nostro personaggio sulla reputazione che parte dalla fiamma, quindi a zero, e può diventare positiva e vi dà punti vittoria. Quando vedete questa pergamena con un numero sono sempre punti vittoria. O da quest'altra parte, nel caso, la perdiamo. Guadagnare reputazioni ci fa prendere punti vittoria, ma perderla non è sempre un malus, perché ci sono alcune reliquie che per essere utilizzate molto potenti dovete avere reputazione negativa. Quindi per forza di cose dovete andare a scendere. Poi, qua giù in fondo abbiamo tutte le azioni che si possono fare, che sono il municipio. Il municipio ci consente di fare con una sola azione tre azioni differenti. Ci consente di spendere queste risorse che abbiamo qui, tipo pane, tipo gemme, tipo monete, per prendere uno standardo dello stesso valore delle risorse che abbiamo speso, o alla rovescia scambiare uno standardo col pari valore della roba che abbiamo di qua. Quindi o risorse per uno standardo o standardo per delle risorse. E gli standardi si possono guadagnare anche con delle quest e servono di solito per acquistare appunto nuovi equipaggiamenti. Magari un equipaggiamento vi chiede uno standardo blu se non ce l'avete non lo potete prendere. Vi consente di scartare una e una soltanto delle carte reliquia del mazzo che vi ho fatto vedere all'inizio, che avete in mano, perché queste non le potete più scartare assolutamente e tutte le carte che a fine partita vi sono le carte reliquia, comuni o rare, che vi sono rimaste in mano e che non avete potuto metterle in gioco perché per metterle in gioco anche se ce l'avete in mano non le potete mettere in gioco dovete per forza comprarle quindi tutte le carte che non siete riusciti a comprare vi tolgono dei punti a fine partita. Quindi cercate di non averne troppe in mano perché quelle che vi rimangono a fine partita vi tolgono punti e qui al municipio vi dà la possibilità di scartarne una e una soltanto altrimenti potete pagare monete o gemmine per guadagnare o perdere punti fama quindi magari pagate due gemmine per alzarlo di due o due monete oppure ne pagate due per andare sotto come vi pare a voi vi consente di fare quell'azione andando qua giù invece dovete spendere un cibo qui vedete in questo caso qui c'è il pane l'icona di un pane potete spendere un cibo che è questo qua che anche questo poi ora vi faccio vedere come si guadagnano ma li potete guadagnare anche nel corso delle missioni potrebbe essere un reward guadagni del cibo per comprare un uccello da soma che sono quelli che vi ho fatto vedere prima sulla scheda un uccello da soma vi permette di portare carico e anche evitare un incontro quello ve lo faccio vedere dopo ma di solito è per portare il carico potete andare all'emporio dove spendete una moneta e per ogni moneta che spendete potete pescare quattro carte quindi ancora una volta andate nei due mazzi delle reliquie comuni e rare con questo disegno ne potete pescare quattro rare o quattro comuni come vi pare a voi o anche mischiarle ovviamente una, tre come volete però ricordatevi sempre la regola se vi rimangono in mano a fine partita perdete punti abbiamo l'azione della fattoria dove invece si possono guadagnare razioni quindi pane per ogni punto abilità che abbiamo perché come vedete i personaggi che potete prendere scusate gli avventurieri che potete prendere spesso ci hanno una mano per ogni mano che ci avete in un conteggio se ci avete solo lui ci avete una sola mano se ci avete lui e lui avete una più una o due mani ovviamente queste icone che vedete qua sopra le potete ritrovare anche nelle carte tesoro e nelle carte equipaggiamento per ogni mano che avete prendete una risorsa quindi facendo questa azione in città voi potreste prendere ad esempio avete tre mani prendete tre pani e poi c'è la missione qui della capanna del mistico dove possiamo andare ad acquistare direttamente un tesoro e quindi questo lo prendiamo e ce lo mettiamo sulla scheda occhio sia chiaro che non lo potete portare al solito se non avete un animale da soma l'azione della miniera che potete mettere all'inizio dovete partire sempre il primo che ci mette una tendina quindi prende una tendina dalla propria scheda la mette qui la deve mettere sul numero sottolineato quindi la metterà qui ora quando volete andare a mettere una tenda dovete muovervi sempre ortogonalmente dall'ultima tenda messa o comunque da una qualsiasi tenda quindi se volete andare sul tre non ci potete andare ma sul due e sull'uno si nel caso un altro giocatore volesse fare l'azione di andare sul tre prima dovrebbe metterne una sul due perché ci si può muovere sempre ortogonalmente e prendete ovviamente il bonus sia sopra che sotto quindi in questo caso prendo solo una monetina ma se ce ne fosse anche una qui dopo prenderei sia una monetina che una gemma non potete mai andare a fare un'azione numerata che sia più alto del vostro livello di abilità quindi ancora una volta contate le mani che avete sugli oggetti su tutte le carte e sugli avventurieri che avete assoldato perché se avete un valore di tre non potete andare ad esempio sul quattro potete scendere soltanto sulle caselle tre queste sono le azioni che si possono fare in città in più se voi in città andate in un posto che non sia la locanda che c'è il disegnino come vedete chi prima arriva meglio alloggia ovvero se il mio personaggio è sull'emporio e un altro giocatore arriva sull'emporio non può fare l'azione dell'emporio fino a che non mi combatte e non mi sconfigge l'unica differenza è la locanda nella locanda ci può stare chiunque occhio ti possono attaccare anche in locanda però diventa opzionale non diventa una forzatura quindi se un altro giocatore decide di attaccarmi può scegliere di fare un combattimento onorevole o un combattimento disonorevole se fa un combattimento onorevole non ha nessun bonus tira praticamente per le spade che ha e ancora una volta bisogna andare a tirare un dado da sei per fare questa prova quindi si tira un dado da sei e si sommano tutte quante le spade che abbiamo quindi sugli avventurieri che abbiamo preso magari è uscito quattro ho lui quattro più uno ho fatto cinque il mio difensore conta le spade che ha e anche lui vedrà a quanto arriva il risultato ovviamente se siamo in un pareggio non succede niente se l'attaccante vince invece la sfida può non ci sono punti ferita non vi preoccupate non vi ammazza però può fare l'azione che c'è scritta sotto un combattimento onorevole non mi dà bonus ma nel caso che io lo vinca mi dà un punto quindi andrei avanti un combattimento disonorevole mi dà un bonus alle spade quindi in questo caso non avrei fatto cinque avrei fatto sei mi conta una spada in più però se lo vinco perdo invece un punto e vado indietro tutto lì se non vincete il combattimento la vostra azione è persa e non potete fare nient'altro in città per quel turno sia chiaro in città potete fare un'azione soltanto e nel turno successivo se vi volete fare un'altra azione in città non potete rifare la stessa vi dovete spostare in un'altra due volte la stessa azione due volte l'emporio due volte la fattoria non la potete fare le uniche tre azioni sono nel municipio il municipio vi consente sempre di fare tre azioni sia chiaro un'altra cosa quando fate una qualsiasi prova nel gioco un attacco una prova di abilità una missione una quest qualsiasi tiro di dado che il gioco vi chieda potete sprecare punti vita che avete sulla plancetta vostra quelli indicati da questo e per ogni punto vita che eliminate date un più uno alla prova qualsiasi tipo di prova questa sopra invece è la mappa di gioco anche i segnalini missione ne dovete mettere per quanti giocatori siete quindi in questo caso qui abbiamo fatto un setup a tre giocatori ora le azioni che potete fare sulla mappa ci metto il vostro personaggio che il vostro personaggio quando uscirà di città dovrà decidere quale sarà la sua formazione attiva perché potete avere anche 20 avventurieri come vi ho detto all'inizio ma ne potete portare soltanto 4 vi sposto alla plancia ve lo faccio vedere meglio facciamo conto che quando uscite di città dopo vari turni voi avete tutti quanti gli avventurieri che avete visto nella mappa di prima già comprati ok ah ricordatevi che quando li comprate qui anche se ne comprate uno solo e liberate un posto dovete mettere tutto il resto di quelli acquistabili dentro un sacchettino e ovviamente andare a pescare casualmente e qui ce ne dovranno sempre essere 5 fino a che ovviamente non saranno finiti e quando saranno finiti non ne potete più acquistare ma facciamo conto che il nostro personaggio ne ha comprati 5 però vedete gli slot qua su sono 4 e poi tra l'altro con una bandiera soltanto il famiglio può stare dove vuole quindi magari lui dice nella mia formazione attiva ora vi faccio vedere perché nel rosso ci metto quello con lo standard rosso nell'arancione ci metto questo qui e nel verde ci metto questo qua questi due cosa potrebbe fare adesso o leva il famiglio e ce ne mette uno blu potrebbe dire ma a me mi serve più questo qui rispetto al famiglio o ci lascia il famiglio e questi due li mette al lato della plancia e mettendoli al lato della plancia vuol dire che sono inattivi questi qui sono attivi e vi danno i bonus che hanno segnato questi sono inattivi e non vi danno bonus quando arriverete ad avere 4 avventurieri anche inattivi inattivi e attivi con lo stesso standard 4 dello stesso standard potete prendere anche il boss di quella fazione ed è ovviamente vi da un vantaggio disumano comunque mettiamo caso che la nostra formazione sia questa qui ora prima di uscire di città c'è da fare un setup prima di tutto bisogna vedere i punti ferita che abbiamo questo c'è da 2 questo 3 quindi 5 questo 7 e questo in tutto fa 9 quindi qui noi partiamo fuori di città con 9 punti ferita che ci hanno dato loro poi abbiamo comprato nel frattempo anche un uccello da soma perché nel caso troviamo tesori se no non ce li possiamo portare dietro e facciamo conto che siamo andati anche nella capanna del mistico e ci siamo presi un tesoro ok quindi va messo sempre sotto l'animale i soldi che abbiamo guadagnato la nostra azione e tutto quanto e poi ci dobbiamo ricordare anche di tutti quanti gli altri valori che ci sono segnati sopra questa è la freccia del movimento ciascun personaggio ha due azioni di movimento più quelle che ovviamente i bonus che gli vengono dati dagli avventurieri quindi ho un valore di movimento di 2 di base come tutti più una freccetta 3 ho un valore di abilità di 1 2 e 3 che sono le mani ho un valore di combattimento purtroppo ho solo uno da combattimento quindi tiro un dado da 6 più uno soltanto e do un valore di ricerca che sono questi occhi di 1 2 3 e 4 e questi ce li ricorderemo strada facendo che ora vi faccio vedere sulla mappa ci sono tutte quante le azioni che possiamo fare quindi uscendo dalla città quanti movimenti abbiamo abbiamo visto abbiamo 3 movimenti quando si esce dalla città e si va all'avventura si parte sempre dalla città questa qua giù ora ci possiamo spostare spendendo cuori perché ogni volta che vi spostate da un punto ad un altro in questo gioco dovete spendere cuori sarebbe praticamente la fatica e quando vi andate a spostare la casella da cui partite ovviamente non si conta si contano solo le caselle intermedie ad esempio se io so che il mio punto di arrivo è questo qui dove c'è questa gemmina io faccio non uno e due movimenti cioè non spreco uno e due cuori ma ne spreco soltanto uno perché la casella di partenza e la casella di arrivo non contano come cuori se io dovesse andare dalla città di partenza alla gemmina qua giù spreco soltanto un cuore quindi la parte di intermezzo prima di arrivare se io volesse andare qua giù sprecherei uno e due cuori quindi faccio uno e due vado qui quindi ho sprecato soltanto un cuore e sempre col cursore sulla plancetta vado ad abbassare il cuore di uno poi altre azioni che si possono fare quando arrivate in una casella dove c'è segnata una risorsa voi potete fare un tiro di ricerca e vi ricordate che il valore di ricerca dato dai nostri avventurieri che vi ho fatto vedere prima è di 4 quindi io ho un valore di 4 di ricerca per ogni punto di ricerca che ho posso prendere la risorsa qui elencata quindi in quel caso lì prenderò 4 gemmine una, due, tre e quattro andando qui io posso fare quest'azione e prendere 4 gemme poi vedete che alcune caselle sono segnate con delle lettere perché sono caselle con missioni di quest che dovete andare a leggere nel libro dell'avventure però soltanto quelle dove accanto c'è il libro quindi qui nel caso non c'è una quest qui c'è una quest qui c'è una quest soltanto dove il setup del gioco vi ha fatto mettere appunto le i vari libri insomma i vari token quando passate da una casella a un'altra che ha questo simbolo qui vedete qua giù c'è la lista dei banditi che sono in ordine ovviamente crescente da uno di valore uno che fa schifo come potenziale a poi andando in fondo che mano a mano diventano sempre più forti anche loro hanno sempre un valore di combattimento che vedete scritto qui quindi questo ha un valore di 4 quello dopo ha un valore di 5 e così via e abbattendole vi danno questi punti ferita quando volete muovervi da una casella a un'altra ad esempio da qui a qui e passate su una riga dove c'è questo simbolo dovete affrontare un incontro però l'incontro lo potete anche passare se avete o un NPC dietro col simbolo dello scudo oppure scartando il vostro animale da Soma ricordatevi che scartando l'uccello da Soma però perdete anche i tesori che stava portando mettiamo caso che io non abbia quello con lo scudo quindi l'avventuriero che mi segue con lo scudo io se voglio passare da qui senza fare il combattimento devo scartare l'uccello da Soma o se no lo devo combattere mettiamo caso che io non ho l'uccello da Soma ma ho lui posso scegliere di andare avanti e non combattere però non lo scarto quelli con lo scudo vi permettono di evitare qualsiasi tipo di combattimento però ricordatevi una cosa che quando è è opzionale lo potete anche saltare non vi preoccupate a meno che non abbiate nessuno dei due né l'uccello né l'avventuriero con lo scudo però quando fate un combattimento da una parte vi conviene perché comunque dovete fare un combattimento e vedete ci sono delle spade questo bandito è a livello 4 noi vi ricordate abbiamo soltanto una spada quindi dobbiamo andare a tirare il dado sommare una avrei fatto 6 dovete fare pari o superiore in questo caso lo sconfitte sconfiggendolo subito devo prendere una delle tende che sono sulla mia plancia di gioco subito eh vedete c'è il simbolo ce la devo andare a mettere sopra le tende si levano sempre da sinistra verso destra e ora vi faccio vedere una cosa ce la vado a mettere sopra questa carta del bandito la metto dalla mia parte del tavolo e automaticamente alla fine dovrò fare il conteggio di un punto ho guadagnato un punto a vittoria tutte le volte che dovrete andare a togliere una tenda le dovete sempre togliere dalla freccia in poi quindi da sinistra a destra e quando ne togliete una e sotto c'è un simbolo dovete guadagnare quello che c'è scritto sotto quindi in questo caso avrei prendendo la prima tenda guadagnato una monetina la partita finisce quando il primo giocatore finisce tutte e 14 le tende e il primo che le finisce si passa al turno dopo c'è l'ultimo turno di gioco e poi la partita è finita e si va a fare il conteggio di punti altra azione che posso fare sulla mappa è quella di spostarmi in una zona con un libro facciamo conto questa io vado qui in questa zona posso anche dire no la quest non mi interessa vado avanti perché io ho il mio obiettivo un altro oppure posso dire faccio la quest automaticamente levatelo perché comunque che voi la quest la superiate o no nessuno la potrà più fare quindi chi prima arriva me li alloggia la faccio automaticamente levate il token e vedete c'è una J andate a prendere il libro dell'avventure non ve lo faccio dire che non voglio voglio spoilerà comunque nella prima avventura che si chiama caverna del glogo andate a vedere la lettera J cosa vi dice la quest magari la quest vi dice fai questo passo fai quest'altro fai una prova fai una prova d'abilità fai un combattimento qualsiasi cosa se la superate l'avete superata se la fallite avete finito il turno perché non potete fare nient'altro comunque se la superate vi darà sempre un reward a volte alcune quest vi danno una quest secondaria e in quel caso viene la carta che vi ho detto prima se vi dovesse dare una quest secondaria tipo 32 24 una cosa del genere segnatevi i numerini qui così ve le tenete accanto e vi ricordate almeno sempre o da qualsiasi altra parte dove vi pare a voi su un fogliettino tenete conto delle quest secondarie che dovete fare che dovete portare avanti poi ci sono i talenti che potete sbloccare ovviamente andando avanti nell'avventura con i punti esperienza e qui ci sono i punti esperienza ci dovete scrivere con un lapis ragazzi vi conviene stamparvele o a parte si cancellano anche facilmente perché ah rettifico le missioni secondarie si scrivono qua sotto nei tondini comunque quando finite una missione annerite un quadrettino seconda missione secondo terzo terza quando avete finito tre missioni dovete annerire anche la stellina che c'è qui avete preso un punto esperienza questa è per la modalità campagna questa è per la modalità personaggio non l'andate a vedere che ci dovete mettere delle lettere altre cose che non vi vado a spiegare nella modalità campagna dopo tre quest annerite anche la stellina qui e avete completato il primo punto esperienza se arrivate a completare tutte queste missioni tutti questi punti esperienza ah anche le missioni secondarie contano ovviamente prenderete sette punti vittoria quindi questo è tutto un segnare e cancellare e questa è un'altra azione che potete fare quindi cosa abbiamo visto fare missioni ci elevate direttamente il token fare combattimenti le potete passare se avete o l'animale da soma da scartare o l'avventuriero con lo scudo possiamo prendere risorse fermandoci in un punto però potete fare anche un'azione bastarda se voi volete bloccare questa zona che le risorse non possono più essere prese che è tipo completamente prosciugata potete più avanti spendere due azioni per mettere due tende dovete mettere una tenda in un punto e una tenda in un'altra cosicché andate a bloccare completamente la zona ora questa è una zona particolarmente sfigata perché per bloccarla vedete a tre strade quindi dovete bloccare anche questo mettiamo caso che queste remissioni sono state completate e voglio bloccare questa zona di risorse dovrò mettere una tenda qui e una tenda qui facendo una cosa del genere blocco le risorse in questo punto e nessuno potrà più andare a prenderle ricordatevi che per mettere le tende come c'è scritto nella leggenda dovete spendere tre cuori quindi dovete vedere anche se avete abbastanza cuori per accamparvi per mettere una vostra tenda un'altra cosa che potete fare vedete sulla mappa ci sono delle rotte commerciali che sono questi tondi qui con disegnata una risorsa molto più grande ad esempio ce n'è uno qui ce n'è uno qui spostando i banditi ce n'è uno qui comunque se volete prendere una rotta commerciale dovete bloccare quindi bloccare vuol dire sempre mettere tende e dovete sempre avere punti dovete metterle su tutti e due simbolini quindi nel caso dovrei andare con varie azioni qua giù blocco questa e con varie azioni mi sposto laggiù e blocco quest'altra se le bloccate tutte e due con due vostre tende del vostro colore a fine partita prendete nove punti se invece una è bloccata dal vostro colore e l'altra è bloccata dalla tenda di un altro giocatore quindi un altro colore prendete il valore che c'è sotto e questa è un'altra azione che potete fare per la maggior parte ragazzi è tutto uno spostarsi fare missioni dove ci sono i libri fare combattimenti dove ci sono ovviamente delle zone di rischio andare in giro per la mappa risolvere queste principali queste secondarie mettere accampamenti perché ricordatevi quando gli accampamenti li finite date l'ultimo turno agli altri giocatori e poi si fa la conta di punti e come detto all'inizio da qualsiasi punto anche se avete fatto questa missione e vi trovate qua giù in questo momento potete dire ok basta finisco le mie azioni perché l'ho fatta nel turno dopo da qua giù vi potete spostare direttamente in città e quando vi spostate in città qui vabbè dovete avere l'invigorito ovviamente con altri con altra scelta di avventurieri e vi potete mettere su un qualsiasi punto che volete ricordatevi che in tutti i punti già occupati anche la miniera ovviamente dovete fare un combattimento l'unico punto dove potete anche non farlo è quello della locanda le regole del gioco ragazzi beh non male sono tutte qui ultima cosa vi ho detto all'inizio che avete tutte le carte reliquie in mano uno ce ne può avere 600 non c'è il limite perché sono le carte tesoro che vengono portate dall'animale da Soma dall'uccello da Soma però voi potete avere tutte le carte reliquie che vi pare anche 70 però ricordatevi che le avete ma non le potete utilizzare quindi le dovete tenere coperte per utilizzarle dovete pagarle nel caso per pagare questa dovete per farvi un esempio pagare uno standardo avere reputazione meno 4 e pagare 8 monete d'oro e potete avere questa carta qui a quel punto l'avete messa in gioco e mettendola in gioco a fine avventura vi darà 9 punti potreste comprare una katana che costa un po' meno 3 monete e uno standardo giallo gli standardi si prendono o completando missioni o le azioni del municipio e guadagnate una spada quindi avete un altro più nei combattimenti ricordatevi che a fine avventura avete che ne so 3 carte che vi sono rimaste in mano e non siete riusciti né a scartarle con l'azione del municipio e né a comprarle perdete dei punti a seconda delle carte che avete in mano e ragazzi è tutto qui la modalità ovviamente single shot fatta una partita a conto dei punti è finita modalità campagna l'esperienza che avete accumulato perché è impossibile ragazzi fare tutte queste missioni in una sola avventura però nella modalità campagna potete tenervi la scheda del personaggio con tutti i talenti che ha guadagnato tutte le quest che ha portato avanti e ovviamente quando avete finito una mappa passate e girate la pagina e andate alla mappa dopo bene o male il regolamento ragazzi è tutto qui ha le stesse regole di above and below bene o male il regolamento è lo stesso forse questa qui è una versione un po' riveduta e corretta e c'ha qualcosina in più però il gioco è molto facile avete o un'azione da fare in città o più azioni da fare fuori della città per la mappa di gioco però a seconda dei cuori che avete perché avete visto ogni azione ogni spostamento nelle zone costa un cuore mettere una tenda costa addirittura tre cuori quindi comunque anche si è vero in città fai soltanto un'azione e fuori ne può fare tre o quattro ma non tanto di più perché poi comunque se hai pochi cuori meno ne hai meno azioni per fare ed è veramente molto interessante perché è bellino un gioco d'avventure e poi vabbè la componente narrativa è la cosa più importante che come dico nei giochi del 2020 ma anche di due o tre anni fa non devono mancare perché l'evoluzione ora lasciate stare con app o non app però che lo porta avanti è lo step successivo lasciare il gioco freddo da tavolo degli anni 80-90 e portarlo a qualcosa di nuovo perché qui il gioco è fuso con un libro game con un libro d'avventura magari nelle case della follia è fuso con un videogioco cioè è una cosa divertente e poi sono giochi che vendono perché in questo modo ti prende una fetta di pubblico molto 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 più grande perché uno come me che magari può dire bello il gioco d'avventura però magari non lo so non fa tanto per me però ci vede un bel libro game da sfogliare da leggere magari con la parte del dungeon master che ti legge quello che devi fare una cosa o un'altra ti dà una voglia di giocare mi metto una voglia di giocare centomila volte di più tipo Seven Continent e giochi del genere quindi assolutamente passate appena i voti e se devo dare un voto a Nierrenfar assolutamente divertente vi do un consiglio giocato in due dà divertimento però almeno in tre almeno in tre poi vabbè quattro è il massimo però almeno in tre vi dà un divertimento assurdo perché non è tanto vincere superare la prova ma è anche seguire una storia e soprattutto oltre che poi ci sono altre carte scusate che non vi ho mostrato perché ci sono anche le carte missione personale del personaggio con la storia del personaggio e quant'altro e nella modalità arcade però giocate in quattro è bello perché si va anche a cercare di sabotare le azioni di quell'altro capito magari lo attacchi attaccandolo non li fai perdere niente però bloccandogli una zona con le risorse magari lui aveva bisogno di quella risorsa e le toccherà andare in città per comprarsi quella risorsa e spendere soldi che magari in quel momento non ha e se che è anche un cercare di bloccarsi perché quella città che si narra le leggende è una città sembra un po' Uncharted 3 è una città che si dice che quando verrà trovata esaudirà tutti i desideri di chi dell'esploratore appunto che l'avrà scoperta che l'avrà ritrovata dispersa nel tempo e quindi c'è interesse ad arrivare per prima ed è anche bellino il fatto del sabotaggio che ne può avvenire fuori però è un gioco che non ha violenza non ha contenuti violenti è molto molto tranquillo anzi come vi ho detto attaccando uno in città vai soltanto a fare l'azione che c'è in quel posto non è che lo blocchi oppure lo stendi lo sdrai e gli blocchi il movimento e gli fa perdere l'azione quelle cose non ci sono comunque se gli devo dare un voto a Nierrenfar assolutamente gli do un 8 su 10 meritatissimo un gioco divertente e questo ragazzi al 190,50% è un gioco per tutti questo davvero in qualsiasi tavolo lo portiate farete divertire questo davvero un gioco per tutti magari ci avete con l'amico che gli piace il gioco strategico quello magari che gli piace il gioco d'avventura quello che magari gli piace il gioco horror o magari dungeon crawler questo fate divertire chiunque l'unica cosa che non mi è piaciuta molto le carte a parte che sono un po' piegate va bene tutto però le carte non sono plastificate sono ragazzi sono un plasticone assurdo cioè ho paura veramente di piegarla che mi si ronpa a mano sono troppo dure e un po' troppo ruvide a dire la verità però vabbè sono cose che una volta che poi le avete imbussate voi non ci sarà più problema quindi un 8 su 10 è meritatissimo ringrazio la dv giochi per avermi offerto questa copia per la recensione grazie immensamente grazie di quale ragazzi è un onore collaborare con voi grazie Barbara sei sempre disponibile a rispondere alle mail a mandare i giochi per le recensioni e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento primo link in descrizione per acquistarlo e poi a seguire tutti i nostri social ciao ragazzi alla prossima